È un sogno che comincia a realizzarsi per Carmelo Tumino, presidente dell'associazione Onlus Centro Risvegli Ibleo. Ieri sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale per ammalati terminali che nascerà in contrada selvaggio a Ragusa, in un terreno che è stato donato dal comune capoluogo. Sono già arrivati sul posto i primi mezzi tecnici per i sondaggi geologici necessari per la creazione delle fondamenta, dopodiché si passerà alla fase di inizio progettazione vera e propria. secondo i grafici rinnovati e rielaborati dai progettisti che hanno seguito l'esigenza del risparmio finanziario. Il centro risveglia la struttura residenziale in grado di accogliere i pazienti, le cui condizioni cliniche o assistenziali si rendessero incompatibili con una permanenza a domicilio. È il primo nodo di una rete provinciale di assistenza e sostegno alle famiglie con pazienti affetti da grave disabilità per danno encefalico acuto. Lo stato vegetativo è una condizione caratterizzata dalla completa perdita della coscienza di sé e della consapevolezza dell'ambiente nonostante il recupero delle funzioni vegetative. Nel nostro paese, spiega Carmelo Tumino, ogni anno circa 200.000 persone vengono colpite da un danno cerebrale acuto di origine traumatica o no. Per circa 2.000 di questi casi rimarranno esiti neurologici gravi e con gravi alterazioni permanenti dello stato di coscienza. Nella nostra provincia si stima che ci siano circa 10 nuovi casi l'anno di pazienti che sviluppano un danno cerebrale permanente, l'avvio dei lavori per il centro è per noi l'inizio di un sogno che comincia ad avverarsi. Grazie a tutti.